ciao allora ho seguito i vostri sondaggi e tutto quello che avete detto quindi parlo del marchio dei prodotti del livro c non con un video dedicato ma quando ci sono delle novità interessanti allora ci ho messo un po a fare questo video perché intanto non c'erano tantissime novità poi sono passato a raffreddore ho passato la tosse sono qui con la mia tisana sperando di non avere un attacco di tosse di nuovo ma comunque vediamo le novità del periodo che sono abbastanza interessanti me le sono segnate tutte si meraviglioso quadernino del tigota che mi hanno regalato carino allora mi sono segnato alcune cose interessanti da tenere d'occhio e che comunque io appena riesco ad andare in negozio le prendo allora prima di tutto le novità di natale sono il set in edizione limitata e ci sono sempre due profumazioni quest'anno ci sono fiocchi di neve e alberi incantate secondo me fiocchi di neve è delicato ma mannaggia non sono ancora riuscita andare a passare alberi incantati deve essere interessante allora fiocchi di neve è a base di mandorla bianca quindi secondo me deve piacere la mandorla mentre alberi incantati con legno di cedro e questa deve essere fantastica poi sappiamo che ci sono sempre tutti i set quelli più grandi quelli più piccoli quelli per ogni tasca con vari prodotti che sono belle le confezioni bellissime le confezioni sempre basta volere labbra crema manager doccia crema corpo e altre cose però sono belle le confezioni normalmente sono i set sugli album che comunque vi metto il link qui sotto nell'info box di dove poter vedere l'album perché i negozi normalmente almeno da me perché è un negozio piccolo quindi dopo il mini tiger o anche il mini ivrushet dato che è un negozio piccolo normalmente non hanno i pacchi già pronti ma ci sono i singoli prodotti e voi li componete e scegliete voi cosa prendere io direi di darci un occhio poi spero nel mentre in fase di editing da avere messo anche il foto mentre parlo me lo auguro benissimo andiamo avanti con un'altra cosa allora sono uscite due linee interessantissime che io aspettavo da tempo perché io amo il siero e della stebo vegetale ma era andato fuori produzione perché volevo rinnovarlo e io lo volevo ne salviva nel mentre ho provato altri sieri così di altri marchi e ve ne parlerò però volevo quello bene è tornato fuori con un nuovo packaging un nuovo ingredienti e anche una nuova linea perché c'è anche oltre la sebo vegetale c'è anche la sebo pur vegetale che quella per la pelle proprio acneica o le problematiche non ne ho parlato subito perché hanno fatto come l'hanno buttata fuori due mesi fa ormai però come promoter c'era la michelinia che come youtuber è famosa quindi ne hanno parlato ovunque e quindi ho aspettato un attimo a parlarne comunque sia sempre segnando qui è una linea per la pelle mista che io adoro davvero ottima ed è mi sono segnata vari prodotti che a mio avviso sono interessanti quindi abbiamo il siero che ha 14,95 poi la crema in gel per chi invece del siero la crema in gel la trovo adatta perché tende a truccarsi poco quindi se per caso a fine giornata si lucida un po' la pelle può andare bene a 9,95 interessante e poi il tonico pacizzante che dovrebbe essere una novità perché è in parte tonico e in parte cipria che va scecchierato ma devo assolutamente comprarlo a 9,95 perché quello lo voglio provare assolutamente e poi tra le novità c'è anche l'olio struccante waterproof a 12,95 anche quello devo vedere secondo me il negozio tra me arriverà tra un po' non subito comunque sono davvero curiosa sicuramente il siero è tra i prodotti primi che devo prendere perché voglio siero e quindi lo comprerò a breve se non a brevissimo e poi ve ne faccio vedere subito tra gli altri prodotti che qui non ho segnato però mi ricordo c'è anche un siero anti blur che dovrebbe ricreare il filtro di instagram quindi deve andare proprio quello che mi ricordo deve andare opacizzare la pelle va applicato anche sopra il makeup quello lo devo prendere assolutamente lo voglio prendere assolutamente poi tra le altre cose che ho segnato da tenere d'occhio perché secondo me sono interessanti ma nessuno ne ha parlato perché non lo so allora hanno rifatto il packaging e soprattutto hanno fatto delle nuove formulazioni al famoso aceto da risciacquo per i capelli quindi sapete che io amo adoro l'aceto da risciacquo del livre rocher perché è fantastico uno non costa tantissimo due non puzza l'aceto perché la cosa che io odio dell'aceto da risciacquo dell'aceto per i capelli è che puzza quello del livre rocher ad esempio quello che c'era era quello per luminosità ed era lampone quindi davvero ottimo e funziona davvero c'è proprio vedi i capelli c'è la differenza e il prezzo 9,95 e io quando c'era lo prendevo sempre perché davvero mi trovavo benissimo allora hanno fatto tre formule per l'aceto da risciacquo e quindi perché una palana e cappalotto così interessante e utile a tutti allora c'è il solito brillantezza che è al lampone che è quello che io adoro poi hanno fatto anche quello purti o purezza che è purificante e va a rimuovere i residui di calcare quindi anche questo è interessante perché in tantissime zone è proprio l'acqua calcarea che tende a opacizzare i capelli quindi è interessante anche questo e poi c'è l'ultimo antinquinamento che sto leggendo che va a eliminare i danni dello smog e anche dell'acqua quindi io direi quello luminosità è fantastico poi sicuramente voglio provare quello antinquinamento perché fa un po' per l'acqua e un po' per l'inquinamento e anche l'inquinamento infatti ed è quello che voglio provarlo perché spesso non spesso sempre i capelli sporchi molto velocemente tendono anche perché c'è inquinamento nell'aria quindi sono curiosa di provare anche questo sicuramente e poi l'ultimo prodotto che ho segnato perché siamo arrivati alla fine c'è il siero antirottura fortifica e... cosa ho scritto? siero antirottura che è un fortifica ai capelli dovrebbe essere anche un termoprotettore e anche questo per me è interessantissimo io non so perché questi prodotti li hanno fatti passare in secondo piano quando è un buon marchio, sono interessanti i prodotti se poi sono anche non appunto verde, devo andare in negozio, questo ve lo dirò se non sono appunto verde ma sono scontabili è ancora più interessante o comunque con le promo periodiche sono prodotti interessanti a prezzi comunque buoni e perché no? cioè non so perché hanno buttato tutto sulla linea ed è la sebo vegetale perché ovviamente c'era a Michelinia ma niente su questi prodotti molto più interessanti secondo me e... fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi curiosisce quali vi interessano di più, se qualcuno ne avete già provato io sicuramente andrò in negozio e ne proverò alcuni perché alcuni mi ispirano davvero tanto e noi ci vediamo con un altro video aggiornamento quando ci saranno altri prodotti, novità interessanti alla prossima, ciao!